Il tema dell'educazione linguistica è un tema portante all'interno del processo di insegnamento e apprendimento, non solo per gli aspetti cognitivi ma per lo sviluppo globale della persona e l'esercizio della cittadinanza attiva nel mondo, come ci ricordano le indicazioni nazionali. Citando Don Milani è la lingua che ci fa uguali. Il corso sviluppa i diversi aspetti dell'educazione linguistica, l'aspetto comunicativo con il parlato consapevole e l'ascolto attivo, la costruzione delle abilità di lettoscrittura in classe prima partendo dalle teorie linguistiche dei bambini per arrivare al rapporto suono segno significato, il testo da un punto di vista di comprensione e rielaborazione ma anche di scrittura di testi con la mediazione della collaborazione tra pari, la grammatica come occasione per lo sviluppo del pensiero. Gli insegnanti potranno trovare numerosi spunti per attività da svolgere in classe.